Le notizie 60 secondi, intorno alle 21.30 di ieri sera sull'isola Dischia un vasto incendio si è formato sulla zona di Monte Corvo a Forio e lo fuoco è stato avvistato inizialmente nella zona alta della frazione di Panza, ma a causa del vento proveniente da mezzogiorno in poco tempo ha spinto le fiamme verso le zone di Monte Corvo, Falanga e Frassitelli. La protezione civile della campagna ha emanato un avviso di alerta a metodo di livello giallo per piogge temporali validi a partire dalle 8 di oggi lunedì 28 agosto alle 8 di martedì 29 agosto su tutta la regione. Il comune di Forio ha acquistato un drone Matrice T30 per mettere a disposizione del territorio uno strumento all'avanguardia per la sicurezza dell'intera isola. Questa sera e domani martedì 29 agosto anteprima all'accamino dello spettacolo di Salvatore Ronga dedicato al mito di Polissena e Troilo negli anni sanguinosi della guerra di Troia. Coppa Italia Serie D, la Nocerina batte 3 a 2 e Lischia calciano il turno preliminare e passa il turno. Lischia esce dopo una prova convincente e coraggiosa. Prossimo appuntamento stasera alle 20.